Dopo la rescissione consensuale con il DS Cerri, l'US Catanzaro ufficializza attraverso il suo sito ufficiale che il nuovo direttore sportivo sarà Alfio Pelliccioni. Il san marinese classe 55 vanta un curriculum di palese affidabilità. La sua prima esperienza da DS risale al 96-97 nel San Marino, dove riuscì a compiere l'ardo impresa di portare il club dall'eccellenza alla C2. Nel 2003 si trasferisce al Porto Gruaro. Con i veneziani riesce a toccare il cielo con un dito, scalando un Everest. Dall'eccellenza alla B in pochissimi anni, scoprendo anche molti giocatori importanti come Memushai, Scozzarella e Boccalon. Poi Sant'Arcangelo, Mantova, Monopoli, Cesena e Rimini. Ora una nuova avventura in Calabria che lo vede legato alle Aquile fino a giugno 2022. L'ararinante sauditore crotone, nonostante non abbia potuto allenarsi nella piscina olimpionica della città, si è salvata in anticipo in questo campionato ricoprendo il terzo posto in classifica. Il presidente Vincenzo Arcuri, nei giorni scorsi, attraverso un comunicato stampa, ha voluto, oltre che elogiare i ragazzi che da febbraio ad oggi hanno macinato oltre 25.000 km per allenarsi quasi tutti i giorni, in posti diversi, ha voluto chiarire la loro posizione riguardo proprio all'impianto, oramai fermo da due anni. Ci siamo rimboccati le maniche, ecco questo certamente. Non potevamo in alcun modo lasciare correre la stagione senza una partecipazione attiva della rarinante sauditore crotone in quelle che sono le attività istituzionali, quindi in quella che è ovviamente l'attività di partecipazione ai campionati nazionali per i quali abbiamo titolo. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo cercato in lungo e largo per la Calabria, e anche fuori da Calabria, degli spazi acqua da acquistare per poter consentire ai ragazzi di allenarsi. All'inizio tre volte a settimana, poi quattro volte a settimana, siamo anche riusciti a fare allenamenti quasi tutti i giorni, chiaramente non a distanze non inferiori ai 100 km. E questo ci ha portato ovviamente anche a giocare le partite del campionato di prima squadra, quindi la Serie B, con la quale ovviamente siamo arrivati terzi in classifica e ci siamo salvati, con largo anticipo, l'Under 18 e poi le altre compagini giovanili per i quali attendiamo ovviamente l'apertura dei concentramenti e quindi l'organizzazione dei concentramenti. Ha avuto un'enorme attenzione, soprattutto in termini ovviamente di forza fisica, forza morale, chiaramente anche economica e finanziaria, però il dato significativo è che dal 18 di febbraio abbiamo fatto quasi 25 mila chilometri per poterci allenare e giocare. Ci si augura che l'amministrazione comunale si renda conto presto dell'importanza di riconsegnare alla città la piscina olimpionica. Siamo fermi in attesa degli eventi e questo sinceramente è una cosa che non fa venire meno proprio la voglia di andare avanti, anche la fantasia di trovare soluzioni a queste problematiche che sembrano attavi, che sembrano irrisolvibili. Noi abbiamo un impianto olimpionico che è chiuso da due anni, dall'estate del 2019, chiaramente ci sono state tutta una serie di problematiche, c'è un'inchiesta della Procura in corso. Bisogna capire effettivamente qual è la voglia, qual è l'intenzione dell'amministrazione comunale di portare avanti lo sviluppo e con l'utilizzo di questo impianto, quantomeno il suo ripristino, il suo riefficientamento, la sua riapertura alla comunità in primis e poi susseguentemente anche a noi che siamo la parte attiva dello sport agonistico per le attività natatorie. L'1 febbraio ho mandato una pecca all'amministrazione comunale tratteggiando quelle che erano tutte le attività obbligatorie, necessarie e opportune per ripristinare l'impianto con tanto di prezzi, con tanto di spese che ho dichiarato essere pronto a sostenere in toto. Ancora il 16 maggio non sapevamo quali erano le necessità dell'impianto, le necessità di ripristino dell'impianto. Ancora ad oggi aspettiamo notizie da parte dell'amministrazione comunale. Un appello che posso fare io alla cittadinanza posso chiedere un po' più di attenzione nei confronti dell'impiantistica in genere, nei confronti del bene comunale, nei confronti del bene della cittadinanza. Un nuovo sport sta spopolando in maniera sempre più esponenziale tra grandi e piccini, il padel. Ne parliamo con Massimo Giuseppe Zingrone, atleti amatoriali che ci spiegano da dove gli nasce questa passione. La passione per il padel nasce circa un annetto fa, 11-10 mesi fa, in realtà in maniera del tutto casuale. Qui all'Academy era già presente da un annetto questo sport, sono stati i primi a portarlo, ma diciamo che non mi ero mai interessato, non avevo mai sentito parlare comunque di padel. Avendo poi un fratello che lavora a Milano, lì comunque la realtà era molto diversa, il movimento era già avanti, ci hanno entrato a parlare di padel e abbiamo così per caso organizzato una partita un po' per curiosità, per vedere come era. Dopo qualche partita abbiamo iniziato a fare qualche lezione, che tra parentesi reputo sia una cosa importantissima, non tanto per diventare un professionista, ma per capire un po' di più il gioco di per sé e ad allenarci con quello che è tuttora il nostro maestro, sia di mio fratello, che si chiama José, che come diceva Cosenza un po' di giorni fa è veramente un privilegio avere qui per tutto il movimento, perché è un ragazzo di 34 anni di Alicante, che è una terra dove si vive veramente di pane e padel, che ha portato tanta competenza. Basti pensare che l'altro ieri siamo andati ad assistere a una sua semifinale contro Aletinti e Mezzetti, che sono il numero 4 e 5 d'Italia, quindi veramente un privilegio per noi. Il padel racchiude tutta l'essenza dello sport, come spiega Giuseppe Zingrone, una disciplina divertente che promuove in particolar modo l'aggregazione. Il consiglio che darei innanzitutto è quello di provare, provare questo sport per capire effettivamente quanto è divertente. Io penso comunque che lo sport, qualsiasi esso sia, padel, calcio, alla base di tutto c'è il divertimento, ed è questo probabilmente il motivo per cui il padel sta avendo questo grande successo. Prende ogni fascia d'età, dai bambini agli anziani, quindi diciamo coinvolge un po' tutti. Poi ha tanti aspetti positivi, è uno sport che aiuta molto a tenersi in forma, fa comunque lavorare tutti i muscoli, dalle gambe alle braccia, comunque è uno sport di racchetta, quindi è uno sport aerobico, in quanto tale si bruciano molte calorie ed è consigliatissimo sia magari per chi vuole intreprendere un percorso di magari un dimagrimento, sia per chi vuole comunque tenersi in forma. È consigliatissimo perché comunque è uno sport che favorisce l'aggregazione, si conosce tanta gente, ci si trova a giocare anche con persone che non si conoscono, ma posso assicurarvi veramente che dal punto di vista dell'aggregazione, della socializzazione secondo a pochi altri sport. Poi niente, è uno sport con un costo anche relativamente basso, cioè i centri sportivi mettono a disposizione di chi gioca ogni cosa, racchette, palline, quindi non c'è neanche bisogno di spendere per procurarsi tra virgolette l'attrezzatura. Niente, il mio consiglio è questo, venite a provarlo perché posso assicurarvi che non riuscirete più a farne a meno.